Piancavallo Piancavallo, promossa dalla dottoressa Lorenza Liguori, abbiamo allestito questa mostra di biciclette da lavoro, una cosa originale che però ci riporta indietro nel tempo, quando la bicicletta era uno strumento di lavoro e non di divertimento o sportivo come oggi. Piancavallo, rappresentiamo una serie di biciclette storiche che vanno dalla bicicletta dei pompieri a quella della Rottino, al panettiere, il fabbro anziché il muratore. Piancavallo è stata tutta una serie di veicoli a due ruote che sono serviti per lunghissimi decenni a trasportare le attività luogo per luogo là dove serviva lavorare. Oggi sono sostituiti da mezzi molto più moderni ed efficaci ma non perdono assolutamente il valore storico ed educativo che hanno. In una location meravigliosa come la conca del Piancavallo ci auguriamo che possa essere apprezzata dai tanti visitatori che sono sicuro verranno a vederla. Piancavallo, apprezzata dai tanti visitatori di Piancavallo, apprezzata dai tanti visitatori. Piancavallo, apprezzata dai tanti visitatori.